Ben trovati con l'informazione a cura di meteocalabria.net. È in atto un lieve generale peggioramento delle condizioni atmosferiche con qualche pioggia e macchia di leopardo, ma dovrebbe andare meglio nel corso della giornata di mercoledì. Per il proseguo di mercoledì sarà ancora possibile qualche fenomeno sul Cosentino, comunque in miglioramento dal pomeriggio. Venti deboli moderati dai quadranti nord-orientali, mari poco mossi ma con motondosi in accentuazione, temperatura in calo. Giovedì avremo nuvolosità diffusa ma senza fenomeni di rilievo, se non qualche piovasco possibile nell'area del Pollino e dalla sera anche sul Regino. Venti sempre da nord-est, mari mossi, molto mosso solo nel medio-basso ionio, temperature invariate. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.